Nella notte di martedì intorno alle 23 una pattuglia della polizia si è appostata a seguito di un tunisino sospetto. Si è scoperto che aveva nascosto tre bocchiti di asci, 65 grammi in tutto, sotto un palo nell'area verde tra via Prebiscito e via Respighi a Padova. Il tunisino da un anno in Italia, senza precedenti e senza fissa dimora, era spesso presente presso la galleria San Carlo, zona che è ultimamente tra le più battute dagli spacciatori. La polizia l'ha seguito dalla guizza, lui era in bici, gli agenti in scooter e in macchina. Dopo che ha nascosto la droga l'hanno riportato davanti al nascondiglio e poi l'hanno arrestato. In mattinata, al processo per direttissima, è stato condannato a sei mesi di reclusione con immediata espulsione.